Ero nei primi anni del secolo scorso, ma per gli abitanti di Empoli, provincia di Firenze, era ancora il Medioevo. Ciò che accomuna questa gente è la povertà e la paura, una miseria fiera perché è capace di gesti solidarietà e di indignazione, di chi lavora duramente nei campi dieci o dodici ore al giorno per assicurare la sopravvivenza di tutti in un modo comunque duro e vede minacciare la propria esistenza dalla durezza delle condizioni di vita. Carlo Castellani, nato al Montelupo Fiorentino il 15 gennaio 1909 e morto a Mauthausen l'11 agosto 1944, è stato un giocatore italiano, giocò nell'Empoli per nove stagioni. Deteneva fino alla fine del 2011 il record di diretti segnati con la maglia dell'Empoli, con 61 marcature in 145 presenze, superato poi da Francesco Tavano. Soprannominato Carlino, il goleador dei tifosi empolesi, militò nell'Empoli per nove stagioni, in cui segnò 61 gol. Egli stabilì un vero e proprio record di gol, che due anni fa venne battuto da Francesco Tavano. Oltre che nell'Empoli, Castellani militò tre stagioni nel Livorno e una nel Viareggio. A quell'epoca giocava solo chi aveva soldi, e lui avendo una segredita di famiglia ne possiedeva abbastanza per praticare il calcio. Era un attaccante, ma dopo poco tempo diventò un centrocampista. La sua carriera è durata per circa 12-13 anni, e il 7 novembre 1926 disputò la sua prima partita ufficiale in terza divisione. Nel primo campionato segnò 16 reti, e l'anno successivo, per motivi economici, la squadra retrocessa nella categoria inferiore. La stagione 1928-1929 fu quella migliore sul piano realizzativo, infatti segnò 22 reti in 22 partite. Il 6 gennaio 1929, Castellani segnò 5 reti nella partita Empoli-San Giorgio. In questa stagione lui e il suo compagno Emilio Ramagli realizzarono 33 reti, dimostrandosi una coppia molto affiatata. Nell'anno 1930-1931 fu acquistato da Rivorno in Serie A, ma non vinsero trofei, infatti il campionato fu vinto alla Juventus. In quest'anno Castellani realizzò soltanto tre reti. Nella stagione 1933-1934 militò nel Viareggio in Serie B. Nel 1935 tornò a giocare a Empoli per gestire la segheria di famiglia. Da quando tornò a Empoli non giocò a molte partite perché fu protagonista di vari infortuni. Nel 1939 concluse la carriera per vari motivi. All'epoca l'Empoli era una società calcistica che si trovava in terza divisione, ed è stata due anni di seguito in seconda divisione, fino ad arrivare in prima divisione nell'anno 1930. Nel 1931 il nome della squadra fu ribattezzato come Associazione Fascista Empoli. Nell'anno 1935-1936 l'Empoli giocava in Serie C, e dopo dodici partite si ritirò per difficoltà economiche. Il segretario fascista, per coprire la situazione negativa dell'Empoli, scrisse su un articolo che i giocatori andarono in guerra in Etiopia, e l'Empoli non aveva una rosa per giocare. Il figlio parla della vita del padre, parla della passione che Carlo, fin da piccolo, ha sempre coltivato, parla della prima presenza in prima squadra con l'Empoli, fu un tuo club, e del suo addio, se così si può chiamare. Franco E non sono più tornati. Era uno sportivo il mio babbo, un uomo forte, e morto di essenteria perché mangiava solo erba. La cosa più brutta è che il mio babbo non c'entrava nulla, non volevano lui, volevano il mio nonno. Grazie.